Più che il leone di San Marco, sembrava il leone di Nemea. E l'Inter fa una fatica ercolina per avere ragione di Venezia che ha deciso di vendere carissima la propria pelle. Una lotta strenua, quella della formazione lagunare, che sopperisce ai tanti assenti gettando il cuore oltre l'ostacolo con una difesa strenua e qualche contropiede, trovando anche il premio del gol del vantaggio firmato da Thomas Henry. Ci vuole un saggio di caparbietà e pazienza, anche se condito da qualche pecca di lucidità, ai nerazzurri per ribaltare la situazione, pareggia al quarantesimo Nicolò Barella, poi nella ripresa è un assalto continuo alla porta di Luca Lezzerini. Tante le occasioni perse, fino al balzo di Edin Dzeko sul cross di Denzel Dumfries che abbatte la resistenza avversaria e mette in cascina tre punti d'oro e di piombo per la classifica. Inter che arriva alla pausa consolidando la propria leadership e potendo rifiatare in vista del derby.